Siamo pronti per passare alla Super 3D, la Top Class con 20 piloti, grazie Paola, ora fino a 224, deve essere rispattito la Sego del Bel Air, quindi si faccia fatta la nessuna volta, e poi arriva lo splendido Topolino costruito da Luca e Mamoni. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.